Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio della Foot Draft Oggi siamo qua nell'ultimo episodio perché andremo a giocare la finale Mamma mia ragazzi, proprio lascio la mia parola al mio collega Che cazzo è questa squadra? Ragazzi, allora Ruffieri intanto è un bug, un liballi non fa passare nessuno Ragazzi, questa rosa è veramente difficile, sembra facile ma c'è il mare, tutti i feti tra l'altro Andiamo a giocare questa finale, in campo Via Via Via, cazzo No, ce la portiamo avanti Con Gare Bell No No, che cazzo è? Oh, Gareth Gareth Uh, segnate, qualcuno che segna Sì Luca Modric Una, due Luca Modric Due gol, ha fatto lui, due gol Ragazzi, tranquilli che la partita non è ancora finita Fidatevi di me Ronny, non hai mai fatto gol Ronaldo, Ronaldo No Con le dita ragazzi Con le dita, qua Qua ragazzi la presa Vaffanculo, sembra un'è presa di due alle bench Ragazzi Ragazzi Ragazzi, 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 non so se è sotto l'incrocio Ma ragazzi, la finale la stiamo vincendo 2 a 0 2 a 0 ragazzi Con l'assist di Bane, Bane non ci deve dare mai Ragazzi, secondo me questo foot draft senza Bane Ragazzi, ragazzi, incredibile Ronaldo Ronaldo Deviazioni Però Ragazzi Oh, oh, il micro Ragazzi, staccava tutto qua Sì, sì, sì Federico, 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 Federico Zitto, cazzo Non l'avevo mai subito gol Ragazzi, ammettetelo Questo qua è un foot draft veramente bello Ragazzi, che numero? Che numero? E guardatelo Faccia bene il cascata Deve segnare Deve segnare Bebe 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 Lui è l'uomo Bebe Lui è l'uomo Bebe 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 Eppure in questa partita, ragazzi Ha segnato Bebe Mamma mia Porca, va che fa il suo nono gol In quattro partite Che bebe Giuro Tutta la squadra quasi più Tutta Deve segnare Ragazzi Chiudere la partita Ragazzi Ragazzi La finale Ormai È nostra Ormai raga 4-0 Eccolo Ragazzi Ragazzi Concludiamo pure questa serie Quinta Sei ragazzi La finale È stata Accolata In vicino Diciamo Questo è proprio È il più raro Che ci sia Ragazzi Adesso Andiamo ad aprirci Questi 4 pacchetti E niente ragazzi Grazie per aver visto questo video Io sono Pilt Lui è King E noi ci vediamo Domani Con un prossimo video Dipende Se è domani O una domenica E niente ragazzi Bella a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti E noi ci vediamo Ciao a tutti Ciao a tutti